Separati alla nascita o meglio alla rinascita, storia del Berletta 1922 e del Berletta Calcio Sport, denominazione che l'audace Berletta potrebbe assumere di qui a poche settimane o a pochi mesi. La settimana che sta per andare in archivio nella città della disfida è stata quella degli annunci, delle conferenze stampa e dello smarrimento. Quest'ultimo coinvolge in particolare una tifoseria nel pallone che dopo aver ingogliato l'amaro boccone della retrocessione in eccellenza adesso è chiamata a vivere un cambio di rotta societario che ha portato sia alla presidenza del club Marco Arturo Romano, ex numero uno della Viterbese, ma al tempo stesso ha garantito alla famiglia di Miccoli il mantenimento del 40% del pacchetto nelle mani di Francesco, figlio dell'ex presidente onorario Mario. Così nelle ore in cui gli striscioni affissi in città contro la nuova dirigenza venivano rimossi e mentre Romano si presentava in una conferenza fiume il cui sunto era giudicatemi per quel che farò, a Berletta ha preso piede un altro progetto sportivo, quello guidato da Michele Di Benedetto, imprenditore che per mesi ha trattato l'acquisto del 100% delle quote del Berletta 1922. Una volta rimasto fuori dalla corsa in favore di Romano ha dirottato le sue attenzioni sull'altra realtà calcistica di prima squadra esistente in città, l'audace Barletta. Con un gruppo di amici, diversi imprenditori già in passato coinvolti nel Barletta 1922 e gli ex calciatori Lima e Da Silva, così definiti dallo stesso Di Benedetto, metterà a terra un progetto triennale partendo dalla base dell'audace in odor di ripescaggio in promozione. Barletta Calcio Sport, il nome individuato per la nuova realtà che potrebbe anche riprendere il logo adottato in passato dal Barletta Calcio. Intrecci, messaggi da leggere tra le righe, segnali di distensione come l'invito a giocare un amichevole tra i due club in agosto che dovranno però passare dal banco di prova per diventare realtà. Di certo c'è che al momento la Barletta del pallone si è divisa tra chi assicura che non seguirà il Barletta 1922 nelle partite casalinghe in segno di contestazione per la mancata discontinuità con il passato, chi invece antepone la maglia ai volti in società e chi ha già spiegato che dirotterà attenzioni e passione sull'audace tutto in tre giorni quelli della separazione di due progetti alla nascita o forse lo dirà il tempo alla rinascita.